La ciuma nera dove c'era. Picca e spissa, come essere fra baccata ora, c'aveva giusta la ciuma nera dove c'era. E mi piaceva sempre una cosa, una piccata inzogna, qualche ricca da poerca, qualche giusta per fare il brodo. Insomma, una piccata in foglia. E stava sempre da agne ragione. Quando nati, era urgente lo fatto, la ciuma nera non ci trova buona, e la cucina non buttava a pacciare il fornito. Sa che ho figli di un mestre probbacatore? Si corre la gara e io lo giusto buona. Quando sa che ho con l'attena, io disse lo fatto e io disse che stavolta la ciuma nera non giova a stavi più, come l'era giusta ditta. e la ciuma nera già faccia pure una prova che la ciuma nera non sapeva aggiustare buona. Figli a me, gli disse la ciuma nera, come sei più grande da te, vuoi che certe cose ne esecche. Ma che la sia aggiustata buona, la cucina non è chiamata più a aggiustarla. E mi ha perso bene. Bene, le fati di un piacetta, l'anima dimostra, l'anima dimostra, ma che la faccia in riso è importante. Spero le fati sono illo.